io mi avvierò buongiorno questi sono i temerari turisti olandesi manca l'amaro del Cinar poi qui c'è tutto tavolino, sedie, panorama i sassi ci sono ora te li mettiamo nello zaino te li mettiamo nello zaino grande grande perfetto vada e lavori vada e lavori il muro in gravel non mi ha visto io se mi fai la veloce non la puoi fare se la fai la fai veloce perché sennò guarda guarda che roba guarda che robaccia guarda che robaccia guarda che robaccia io ho la pelle dopo io ho la pelle dopo ora si è montato la testa con questo capo nord ragazzi non si regge più non si regge più 100 metri a capo nord 100 metri a capo nord i lo non 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 ma Grazie a tutti.